E' una descrizione appassionata, sentita e probabilmente non avrebbe potuto essere altrimenti quella che fa il tenente colonnello Lino Ciccarella, vice comandante provinciale dei Carabinieri di Chieti del calendario storico e dell'agenda storica 2011 dell'arma. Significa richiamare come la storia dell'arma dei Carabinieri vada di pari passo con quella della nazione italiana e che quindi arma dei Carabinieri e nazione italiana sono un binomio direi indissolubile. Un momento, tra virgolette, di rievocazione storica ma di un'arma che è presente e segna il tempo di questa società. Senz'altro, d'altra parte sono rievocazioni storiche che stanno ad indicare come sia stato fatto un cammino comune all'interno della nazione fra arma dei Carabinieri e Stato italiano. I temi, i 150 anni dell'Unità d'Italia, la storia del Paese, in episodi affiancati a quelli che hanno fatto la storia dell'arma dei Carabinieri nella loro istituzione con la legge patenti promulgata dal Re il 13 luglio 1814. Curiosità e ricorrenze significative per i Carabinieri dalla prima vittima, ad esempio, piuttosto che la prima azione militare all'introduzione del pennacchio tricolore. Il calendario e l'agenda presentati oggi sono anche la prima di quattro edizioni in un percorso che arriverà al 2014 in cui sarà festeggiato il bicentenario dell'arma dei Carabinieri. Anche quest'anno la tiratura sarà ampissima. Il calendario agenda è ormai un cult nonostante le 1.350.000 copie di cui 8.000 in lingue straniere, francese, inglese, spagnolo o tedesco.